25 anni fa nasceva Verduri, il primo passato di verdure ricco di gusto e benessere. Surgelato in piccole gocce, facili da utilizzare nella quantità desiderata e pronte in pochissimi minuti. Una grande idea innovativa, che ha iniziato la sua strada verso il successo con i primi spot in televisione. Verduri è in pratiche gocce ed è pronto in 6 minuti. La cucina italiana di Oroge ti propone ricette semplici, naturali, come Verduri Gran Passato di verdure scelte. Nel 2006 la famiglia si allarga e nasce Verduri Leggerezza. Il primo passato senza legumi, né sale né olio. Per tutti, per chi vuole stare attento alle calorie, per i bambini. Verduri è stato protagonista di trasmissioni televisive e tanti talent l'hanno raccontato, esaltato e gustato. Negli anni la linea Verduri è cresciuta, con nuovi gusti davvero irresistibili. Una bontà riconosciuta anche dai nostri clienti. Verduri zucca e carote per i palati più golosi. Verduri agli asparagi e Verduri ai carciofi per i palati raffinati. Tutti davvero irresistibili. Quest'anno celebriamo un importante traguardo. Verduri compie 25 anni. Come festeggiare un compleanno così importante? Con uno special pack per Verduri verdure scelte e per Verduri leggerezza, che aumenta la riconoscibilità, esalta il prodotto e la sua storia. Ma soprattutto lancia una nuova iniziativa. 25 anni e il 25% di prodotto in regalo. Per dare ai consumatori la possibilità di gustare ancora più Verduri. 25 anni di successi. Festeggiamo insieme con Verduri Orogen.